Quali sono state le tue difficoltà più grandi che hai dovuto affrontare da quando sei in nazionale? Allora, per me la prima volta in nazionale e le difficoltà più grandi sono innanzitutto il trattenere le emozioni perché comunque vestire la maglia azzurra sentire l'inno e giocare con uno stadio così pieno è sempre difficile per le prime volte però ti dà anche tanta carica e tanta emozione e poi naturalmente il livello sia tecnico che fisico degli avversari e anche dei compagni di squadra però sono tutte cose che spero mi facciano crescere e migliorare per poter sempre far parte e continuare a giocare con questa maglia E a proposito di questa, che è la tua prima esperienza ad un livello così alto come ti senti dopo queste due vittorie consecutive? Vabbè, molto felice molto soddisfatto anche di essere riuscito a dare supporto alla squadra di averla aiutata e adesso testa per la semifinale e dai che bisogna andare in finale e riuscire a vincere questo torneo Grazie mille Gabriele Buona fortuna per tutto Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille